Anche per il Consiglio e la Giunta regionale si voti come per i sindaci, e cioè o il candidato presidente e la coalizione ottengono un'ampia maggioranza, noi diciamo almeno il 42% al primo turno, altrimenti si va dopo due settimane al ballottaggio. I vantaggi di questo sistema sarebbero due. Uno, qualunque presidente eletto avrebbe una forte legittimazione, cioè sarebbe comunque votato almeno dalla metà degli elettori. Due, avremmo un sistema simile per votare le comunali, le regionali e il Parlamento, perché ricordo che anche la riforma del Parlamento quella che sarà votata nei prossimi giorni, prevede il doppio turno. Raggruppamenti forzati tra forze che si sono fatte la guerra fino al giorno prima, ovviamente presuppongono scambi fatti sotto banco e che poi alla prova dei fatti non riescono a tenere nel governo. Mentre, come ha dimostrato la legge elettorale sui comuni, un'alleanza fatta alla luce del sole al secondo turno, dove ognuno porta i voti che ha veramente ottenuto, non quelli che aveva ottenuto la volta prima o quei sondaggi, quelli che ha ottenuto, comportano quello che è necessario fare in politica, cioè sintesi, alleanza e compromessi tra posizioni anche un po' diverse. Le scorse settimane, quando abbiamo discusso la questione, secondo me l'Aula non era attenta ed era impegnata a fare altre valutazioni in termini di preferenze, in termini di mandati e ha sottovalutato questa nostra proposta. Riteniamo che adesso vuoi anche il clima politico e l'avvicinarsi delle elezioni e l'opportunità di valutare i cambiamenti che ci sono all'interno del corpo elettorale Veneto e anche su scala nazionale, riteniamo che potrebbe avere qualche convergenza maggiore di altre forze che hanno valutato meglio nel tempo che questa proposta va nel verso giusto.